Grazie a tutti. Grazie a tutti. Commemorazione funebre dell'ex assessore Massimo Carlesi nel pomeriggio in Salone Consiliare. Presenti quattro sindaci, Mattei, Romagnoli, Cenni e Biffoni, che hanno portato il loro ricordo. Domani la salma di Carlesi sarà trasferita alla chiesa di Grignano, dove alle 15 si terrà il funerale. Le sentiamo. Uno che sarebbe stato un bravo sindaco, come ha detto ieri Fabrizio Mattei. Marco Romagnoli, Fabrizio Mattei, Roberto Cenni e Matteo Biffoni hanno portato il proprio ricordo alla commemorazione funebre di Massimo Carlesi, che si è tenuta questo pomeriggio nel Salone Consiliare. Erano presenti i familiari, gli amici, tanti politici che hanno condiviso con Carlesi anche solo una parte del suo percorso e non necessariamente dalla stessa parte della barricata. Un amministratore bravo che ha voluto bene alla città, lo ha ricordato Romagnoli. Un uomo forte e disponibile, persone come lui fanno la differenza, ha detto Mattei. Aveva un attaccamento alla comunità e al territorio straordinario, ha ricordato Roberto Cenni. La conoscenza e l'attaccamento e l'amore per il territorio è sempre stato presente in lui. Per cui pur nei ruoli di opposizione e di maggioranza, la discussione è stata anche spesso forte, acuta e senza sconti. Però poi alla fine gli va dato merito che qualunque atto avesse sempre fatto, lo ha fatto sempre nell'interesse della comunità e del territorio pratese. A chiudere Matteo Biffoni, Massimo era patrimonio della comunità, ha segnato un pezzo di storia di questa città e lo dimostra il fatto che oggi ci siano quattro sindaci a rendergli omaggio. È stato un uomo che davvero ha segnato, è stato dentro in maniera costante e attiva la vita della nostra città. Alcune delle scelte che lui ha compiuto, si pensa sempre al caso delle Lam, alla battaglia per riaprire le cascine di tavola, sono comunque vada scelte che adesso sono patrimonio cittadino e continueranno ad essere. Insomma, davvero si sta parlando di una persona che in tutti questi anni ha messo se stesso a disposizione, la sua energia e il suo tempo a disposizione di un'intera comunità. Stamani invece in Duomo si sono tenute le esequie di Elvira Trentini, imprenditrice per tanti anni, anima del Teatro Politeama assieme a Roberta Betti. Lei portava ironia, portava gioia, era veramente una persona eccezionale e penso sia una grossa perdita per la città. Elvira Trentini era tutto questo, una donna coraggiosa e sincera e fu proprio quel suo coraggio, unito ad una certa lungimiranza, a farle credere nell'operazione di rilancio e riapertura del Teatro Politeama pratese insieme all'inseparabile Roberta Betti. Stamani in Duomo l'ultimo saluto a quell'imprenditrice che esule dall'Istria trovò casa a Prato. Dando vita ad una ditta di pulizie che oggi conta quasi 200 dipendenti. Aveva 95 anni ma la lucidità di chi nella vita ha affrontato tante battaglie non arrendendosi mai. Presente in cattedrale personalità del mondo delle istituzioni e della cultura tutta, uniti nel dirle grazie per aver salvato col Politeama un pezzo di vita della città. Durante l'omelia Don Luciano Pelagatti, parroco della cattedrale, ha ricordato la grande impresa umana e professionale di Elvira, sottolineando come il suo sia stato un grande esempio di donna nella giornata in cui si celebrano proprio i diritti e i talenti delle donne. Una storia della sua che si lega a quella del Politeama e del suo salvataggio, assieme all'indemiticabile Roberta Betti. Salvare un teatro, trovo che sia qualcosa di grande, perché se un teatro muore è un po' del nostro essere uomini che viene a morire. Simona Marchini, artista legata da sempre al Politeama, ha inviato un messaggio che è stato letto durante i funerali. Ci siamo fatte compagnia anche con Roberta e abbiamo condiviso tante cose belle, semplicemente abbraccio con una nostalgia che mi accompagnerà sempre, la cara straordinaria compagna di amore per la vita che è stata e sarà Elvira. Quando decisero di salvare la Guido Monaco, Elvira disse ma io ne consiglio che ci sto a fare, e Roberta gli disse tu fai gli assegni, questo è un po' il loro spirito e la loro forza. Lavorato dal 68 fino al 2012, delle meravigliose signore, diciamo tutte e due, una non caratterata ma erano fenomenali. Voltiamo pagina, a Prato crescono le imprese femminili, soprattutto nei settori dell'agricoltura e dei servizi. Facciamo allora il punto sui dati diffusi oggi per l'8 marzo dalla Camera di Commercio di Pistoia Prato. Il numero delle imprese femminili tiene e anzi nella provincia di Prato è in leggera crescita rispetto al 2021. A dirlo sono i dati diffusi dalla Camera di Commercio Pistoia Prato. A fine 2022 sono 13.847 le imprese femminili attive nel territorio di riferimento, pari al 24,5% del totale delle imprese. Un dato migliore rispetto alla media regionale e nazionale. La presenza di imprese rose è più elevata in provincia di Prato, dove raggiunge il 25,8% del tessuto imprenditoriale con 7.483 imprese femminili rispetto alla provincia di Pistoia, dove rappresenta il 23,2% del totale delle imprese complessive. Nella provincia di Prato, caratterizzata da una forte quota di imprese manifatturiere, il maggior numero di aziende femminili si trova nel settore dell'industria, con il 36,2%, ma sono i settori dell'agricoltura e dei servizi a crescere di più a livello di aziende rosa. Nel 2022, in generale, le imprese a conduzione femminile nel Pratese hanno registrato lo 0,9% in più rispetto all'anno precedente. La presidente della Camera di Commercio, Dali Lamazzi, si chiede maggiori interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile, che facilitano la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, strumenti per investire, per conciliare lavoro e famiglia, che aiutino a raggiungere la parità di genere, conclude Mazzi. E proprio di imprenditoria femminile si parlerà stasera intorno alle 9, in onda dopo il nostro TG. Buonasera, per la festa delle donne, noi parliamo delle donne lavoratrici, delle sfide che attendono quotidianamente le donne imprenditrici. Ne parliamo con una di loro, Melania Cannistra, ristoratrice. Buonasera. Buonasera. Quindi ci vediamo subito dopo il TG con intorno alle 9. Grazie a Lucrezia Sandri per queste anticipazioni. Consegnato il contributo di Confartigianato alla Mensa Lapira, 3.000 euro il ricavato della cena natalizia. Un'amicizia ormai ventennale, quella che lega Confartigianato a Imprese Prato, è la Mensa Lapira e che ogni anno si concretizza in diverse iniziative, tra cui una cena natalizia. La presidente della Mensa Elena Piralli ha accolto dalle mani del presidente Luca Giusti il ricavato della raccolta che l'Associazione degli Artigiani organizza proprio in occasione della cena che si tiene nei locali della Mensa e dal conto corrente dedicato. Si tratta di 3.000 euro che contribuiranno all'impegno quotidiano dei volontari della Mensa. È un mondo che ha sempre risposto con grande coraggio e con grande cuore e anche per questa edizione e anche in questa occasione ha saputo dimostrare una disponibilità non soltanto con la partecipazione diretta a quello che è stato l'evento, a quella che è stata la cena che tutti gli anni ormai appunto da 20 anni facciamo, ma donando anche risorse economiche, risorse finanziarie perché è stata fatta una raccolta che oggettivamente ci ha reso molto soddisfatti dell'iniziativa. Un'amicizia, un'amicizia che è nata tanto tempo fa e che si rinnova con questa bellissima cena che con Fartigianato ci dà la possibilità di fare. Nel 2022 la Mensa di Via del Carmine ha servito 48.000 pasti, una cifra leggermente in flessione rispetto a quella del 2021 che si era attestato sulle 52.000 presenze. Il 2023 è iniziato invece con numeri un po' più alti. Stiamo registrando una maggiore presenza giornaliera e penso che siamo già a poco più di 8.000 pasti, quindi arriveremo sicuramente ai 150 pasti al giorno come facevamo in periodo prima appunto del 2020. Quindi un leggero forse aumento sta cominciando a verificarsi. Andiamo adesso a Montemurlo per parlare di turismo. Boom di presenze nel 2022 con un incremento pensato del 345% e non si tratta soltanto di arrivi legati al mondo del business. Vole il turismo a Montemurlo registrando nel 2022 un più 345% di presenze. Gli ultimi dati relativi all'arrivazione del movimento turistico nella provincia di Prato confermano infatti che il comparto turistico montemurlese fino a qualche anno fa, pressoché inesistente, è in forte crescita. E questo è dovuto anche a tutto il lavoro che l'amministrazione sta facendo in questi anni per promuovere questo territorio, basta pensare alla Collina delle Meraviglie, basta pensare a tutta quella progettualità che c'è dietro ai cammini. Tra pochi giorni saranno installate nuovi segnavia sul cammino di San Jacopo e sul cammino delle Rocche stiamo lavorando per implementare la segnaletica. In totale il bilancio sulla movimentazione turistica nel comune di Montemurlo vede 4.682 arrivi e 10.193 presenze, con una permanenza media sul territorio di due giorni. L'offerta ricettiva del comune di Montemurlo è costituita da 16 strutture per un totale di 218 posti letto. A riprova che il turismo a Montemurlo non è solo legato al mondo del lavoro, basta analizzare i dati relativi alla stagionalità dei flussi turistici che presentano un picco nel mese di agosto, periodo per eccellenza delle ferie estive e fabbriche chiuse, seguito da luglio, settembre e ottobre. Dall'inizio dell'attività nel 2016, inizialmente con il ristorante e poi con l'attività ricettiva, devo dire che abbiamo avuto un incremento annuale costante e continuo. Specialmente negli ultimi due anni, anche dopo il Covid e con tutti i problemi che ci sono stati della pandemia, abbiamo visto presenze anche non solo economiche, cioè non solo presenze di imprenditori che vengono a dormire o a rimanere a mangiare, ma anche di persone che vengono in vacanza. Siamo aperti da otto mesi, è da luglio che abbiamo aperto il nostro hotel i vivai a Montemurlo, insieme al ristorante, ma oggi i dati sono l'80% del turismo, 20% vengono per lavoro e questo 80% del turismo buona parte è straniero. Quindi circa sarà 60-65% dei stranieri e il resto italiani. Abbiamo iniziato circa due anni fa, abbiamo aperto praticamente in piena pandemia, quindi insomma all'inizio non è stato facile, però effettivamente abbiamo visto nel tempo, ormai a maggio saranno due anni, un incremento sempre graduale di persone che ricercano la nostra attività. Noi abbiamo in questo momento un turismo più che altro locale. La parola passa adesso a Marilena Chiti per le anticipazioni di In Salute, la trasmissione di Medicina e Benessere in onda come ogni mercoledì alle 21.20. A te Marilena. Sì, grazie della linea, qui dallo studio di In Salute siamo pronti. Buonasera a te e ai nostri telespettatori. Oggi giornata internazionale della donna e metteremo lo zoom proprio sulle malattie che possono colpire la donna mettendo seriamente a rischio la sua salute. E poi ancora una stessa malattia, differenze fra gli uomini e le donne. E parleremo anche degli alimenti amici delle donne e tanti altri argomenti che scopriremo insieme. A più tardi. Grazie anche a Marilena Chiti. Si intitola Le Madri Costituenti ed è la mostra che fino al 12 marzo a Palazzo Buonamici racconta la storia delle 21 donne che contribuirono a scrivere la nostra Costituzione. Un modo per conoscere al meglio una pagina bellissima della nostra storia. Si intitola Le donne costituenti, la mostra allestita in occasione delle celebrazioni per la giornata internazionale dei diritti delle donne nella sala viaggi di Palazzo Buonamici. L'iniziativa è promossa dalla provincia di Prato in collaborazione con l'associazione toponomastica femminile. L'esposizione tratta di un universo ancora poco conosciuto, quello delle madri costituenti durante le elezioni del 1946. Noi parliamo sempre dei padri della Costituzione dimenticando che ci sono state anche le madri della Costituzione, cioè donne, che nel periodo della prima Repubblica sono entrate a far parte dell'Assemblea Costituente essendo passato da poco il diritto all'elettorato passivo, ovvero sia ad essere elette. In questa mostra appunto spieghiamo, raccontiamo la storia di queste 21, perché erano veramente il 3%, quindi pochissime, di queste donne e del contributo che hanno dato alla scrittura degli articoli della Costituzione. L'obiettivo di questa mostra è sensibilizzare le persone verso il raggiungimento di una totale parità di genere e un modo per guardare al futuro per i nuovi diritti e pari opportunità. A partire da quelle che possano essere le problematiche legate ancora nel mondo dell'occupazione e del lavoro oppure all'interno della società purtroppo quelli che sono i fenomeni di stereotipi, di discriminazione o peggio ancora di violenza che accadono e che quindi devono essere assolutamente contrastati con tutte le nostre forze. Quindi è un modo per vedere e leggere la storia, ovviamente importante nel nostro Paese, di quello che ci hanno dato e l'ascito delle nostre donne costituenti, ma è un modo per guardare al futuro, ovviamente per i nuovi diritti e per le pari opportunità. La mostra sarà aperta al pubblico fino al prossimo 12 marzo, dalle ore 9 alle ore 20. Parte da Prato il Manifesto Nazionale per la Promozione dello Sport Studentesco, obiettivo rilanciare l'organizzazione dei centri sportivi, scolastici, multisport e i giochi sportivi studenteschi. È stato presentato in Sala Giunta il Manifesto Nazionale per la Promozione dello Sport Studentesco, promosso dal Protocollo Territoriale Trofeo Città di Prato e dalla Confederazione Nazionale delle Associazioni Provinciali dei Diplomati ISEF e Laureati in Scienze Motorie. L'idea è quella di andare a movimentare all'interno della scuola l'area sportiva, cercare di creare nuove relazioni, cercare di creare le condizioni per cui i ragazzi si possono avvicinare alle varie discipline sportive in modo adeguato. Per fare dei percorsi sportivi adeguati ci vogliono competenze, ci vogliono studi, ci vogliono relazioni, ci vogliono realtà come il Trofeo Città di Prato che da anni si impegna e trova le modalità più adeguate insieme alle scuole e insieme agli altri soggetti del territorio, fra cui Iconi, per favorire, incrementare e dare possibilità sportive ai nostri ragazzi. Un manifesto che parte proprio da Prato e che punta alla diffusione delle buone pratiche sportive nelle scuole, grazie alle linee guida del piano educativo al fine di rilanciare l'organizzazione dei centri sportivi scolastici e multisport e dei giochi sportivi studenteschi. Noi abbiamo pensato proprio a una progettualità che rilanci i centri sportivi scolastici multisport, cioè con la possibilità che tutti i ragazzi trovino la possibilità di praticare, frequentare lo sport che amano o comunque di migliorare i loro apprendimenti. E accanto a questo abbiamo pensato anche di proporre dei giochi sportivi studenteschi a misura loro, in maniera tale che i ragazzi possano davvero raccogliere ulteriori esperienze. Noi crediamo che queste buone pratiche si possano sviluppare in tutta Italia. Abbiamo persino pensato anche a una rete delle scuole che in qualche misura vogliono sviluppare questa progettualità innovativa. Lo sport per tutte e tutti, abili e diversamente abili. La zona play-off dista sette punti ma il Prato vuole crederci. Ce ne parla Marco Manzo. La classifica ad otto partite dalla fine del campionato dice quattordicesimo busto. Eppure il Prato non vuole rinunciare a puntare ad un obiettivo più ambizioso rispetto ad una tranquilla salvezza anticipata. È per questo che quei sette punti che separano i biancazzurri dai play-off vengono visti come la montagna da scalare per dare un senso ad una stagione un po' così. Anche se la classifica è cortissima non sarà un'impresa facile perché ormai da tempo il Prato fa fatica a sollevarsi dalla parte bassa della graduatoria. Ma le potenzialità per riuscirci ci sono, a maggior ragione ora che Mobili è tornato. Proprio l'assenza prolungata del suo miglior giocatore, quei sei punti ottenuti con fatica ed evaporati invece con estrema velocità, potrebbero essere delle scusanti a cui appoggiarsi per non essere al momento nel treno delle prime cinque. Ma con grande onestà in casa biancazzurra Alevi non se ne sono mai cercati. È una posizione che non ci compete, perché con la squadra che abbiamo non dobbiamo e non vogliamo stare nella parte destra della classifica. Cerchiamo ogni settimana di allenarci al mille per mille per arrivare il più in alto possibile per noi, per i tifosi, per la società e siamo convinti che se continuiamo con questo spirito possiamo fare molto bene. Io penso che con il lavoro si possa arrivare a qualsiasi obiettivo. Poi fino a che la matematica ci dirà il contrario, per me i play-off possono essere raggiunti perché la classifica è molto corta. Quindi lavoriamo sì per arrivare ai play-off, ma soprattutto per fare il meglio possibile per noi stessi. E adesso tutti gli appuntamenti in programma a Prato e in provincia nella nostra agenda. Domani alle 18 all'Urban Center all'interno del Centro Pecci inaugurazione della mostra fotografica Prospettiva Fitocentrica. Sempre al Centro Pecci alle 18.30 doppia presentazione in dialogo dei libri Giga Capitalisti di Riccardo Stagliano e Dalla Catastrofe alla Speranza di Alfonso Musci e alle 21 proiezione del documentario E tu come stai sulla lotta della GKN di Campi Bisenzio. Alle 21 al Cinema Terminale per la rassegna all'alto conosce il basso proiezione del film Everest Without Oxygen. Sempre alle 21 al Centro Culturale La Gualchiera di Montepurlo Donne, serata di arte e poesia. E da domani a domenica 12 marzo al Teatro Fabricone lo spettacolo nottuari di Fabio Condemi ispirato ai racconti di Thomas Ligotti una produzione del Teatro Metastasio. È tutto per questa edizione del nostro TG vi lasciamo al meteo e a cura del Consorzio Lamma a seguire la rubrica intorno alle 9 e poi la trasmissione di Medicina e Benessere in Salute. Grazie per essere stati con noi una buona serata e arrivederci. Stop! Purtroppo questo non succede solo nei film ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è affidati a veri professionisti. Prato all'armi, una sicurezza da Oscar. Era un colpo perfetto avevo curato ogni dettaglio eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta ci riproverò. Potete stare tranquilli voi con PratoPol. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Tuscania offre soluzioni per aziende e privati. Pulizie di uffici e condomini, palestre, impianti industriali, lavaggio pavimenti e moquette, trattamento cotto e pietre naturali sono alcuni dei nostri servizi altamente specializzati. Inoltre, manutenzioni giardini e potature piante alto fusto. Da ormai vent'anni, l'esperienza, l'affidabilità e l'ampia disponibilità di macchinari all'avanguardia sono i nostri punti di forza per un servizio di pulizia completo e professionale. Tuscania, la qualità del pulito. Si salve, una buona serata. Un caro saluto a tutti gli amici che ci seguono da casa. La situazione attesa per i prossimi giorni non sembra destinata a portare sorprese o novità. Abbiamo ancora la persistenza di un flusso occidentale che interessa gran parte del continente europeo che sarà interessata ancora una volta da nubi basse. Da pioggia e la neve e il freddo rimangono confinati invece sulla parte più settentrionale del continente. Al di sopra del cinquantesimo parallelo su quella zona il freddo e le nevicate insistono, quindi continua l'inverno. Per quanto riguarda la previsione sulla nostra regione per la giornata di domani come vi dicevo, poche le variazioni. Una giornata con una nuvolosità variabile e qualche schiarita più probabile, più ampia sulle zone centro-meridonali. Addensamenti più consistenti e compatti invece a ridosso dei rilievi settentrionali dove soprattutto al mattino saranno ancora possibili delle deboli precipitazioni. Quota neve ai noi molto molto alta oltre i 2000 metri. La ventilazione si mantiene sostenuta meridionale e questo favorisce ancora temperature miti soprattutto al mattino. Valori in pianura prossimi o superiori ai 10 gradi.